Penso che sappiate tutti quanti cos'è lo stream sniping, ma penso che pochi di voi sanno che molto spesso nelle chat di Twitch state avendo un comportamento antisportivo quando fate ghosting. Sapete di cosa si tratta? Per chiudere la parentesi, lo stream sniping è l'atto facilissimo di aprire su uno schermo Twitch, seguire il vostro streamer preferito, magari sta giocando a Fortnite, e voi, l'altro invece, state giocando a Fortnite, entrate nel server dove c'è il vostro streamer e guardando lo schermo andate da lui e lo uccidete facendolo ovviamente imbestialire, perché è una cosa odiosa e avete un vantaggio troppo grande e infame, tra l'altro un pochino infame. Cos'è il ghosting invece? E perché vi ho detto che molto spesso nelle chat ci sono persone che tengono questa tipologia di comportamento antisportivo? Il ghosting è l'atto di comunicare con un'altra persona la posizione in tempo reale di un avversario. In realtà questo avviene di genere in cuffia tra due persone che stanno giocando senza essere in squadra insieme nella stessa identica lobby. Immaginate semplicemente di andare da uno streamer A, vedere dove si trova, per poi comunicarlo in chat allo streamer B. Quindi al posto di dirgli sei in lobby con quella persona, dici guarda che c'è tizio che è in questa posizione, ha queste armi. Questo è un caso di ghosting ed è un comportamento antisportivo. Grazie a tutti.